In questo momento la coppia Altalune-Urik è la favorita. Ci siamo, si apro le gabbie. Partiti cavalli della terza corsa di quest'oggi. Leggero controtempo D'Amblè insieme ad Urik, i due che sono partiti un filino più lenti. Davanti velocemente ci va in vantaggio Kalamazoo con al suo interno Riviera. Poi terza corsia per Gio Condor. Dietro a questi una seconda linea formata da Amir. Poi ancora Winning Star, Thunder Black, Altalune, Prince of Braccio e appunto Urik. Primi 400 metri di gara che si sono già percorsi piuttosto velocemente. Davanti c'è D'Amblè che ha recuperato pienamente dopo la partenza lenta. Poi Gio Condor in seconda posizione. All'interno c'è anche Riviera. Poi Thunder Black, Altalune con ancora più all'esterno Urik, Prince of Braccio con i cavalli che sono a 400 al traguardo. In vantaggio c'è D'Amblè attaccato all'esterno da Gio Condor. Dal centro della pista c'è anche Prince of Braccio che produce lo sforzo. Dall'interno c'è anche Riviera. Prova a mettersi in marcia anche Altalune quando siamo a 200 dal palo però. Prince of Braccio ha preso margine con Riviera che adesso gli fa lo spunto addosso. Gio Condor che è rimasto in quota con Prince of Braccio che nel tratto conclusivo controlla Riviera e per il terzo Gio Condor. Vince dunque Prince of Braccio con Gabriele Cannarella. Il training di Antonio Perai nei colori di Bruno Bertoldo. 9 al primo posto, al secondo numero 6 Riviera, al terzo numero 4 Gio Condor per Prince of Braccio. Vittoria numero 3 in carriera. L'ultima sul pesante di qualche giorno fa, una settimana fa. era stata veramente molto buona quindi ha completato il momento di forma con una bella affermazione. Vince il numero 9 dello schieramento con 50 kg. Secondo posto come detto per il numero 6 Riviera, 9-6. E poi al terzo posto numero 4, 9-6-4. È un ordine d'arrivo ufficioso della terza di oggi. Grazie a tutti.